ciao bravissima come sempre brava brava hai emozionato tu hai visto che bella bravo Vittorio Vittorio bravo grandissimo ciao vi è piaciuto il stile? grandissimo bravo Vittorio bravo scusa scusate ciao grazie ciao ciao vorrei chiamare anche lei grazie bravo sacerdote insomma come sacerdote mica tanto bravo anche questo è di queste signore ti posso chiedere la pena certo questa c'è anche ci sei questa qua è tua grazie 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 bravissimo Vittorio Vittorio grazie 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 non riesco a darmi un bacio non riesco a darmi un bacio non riesco a darmi un bacio grazie bravissimo ciao oh c'è la maglia come la mia eh fantastico ciao Lollo ciao 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 grazie ciao 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 Come è andata? Andata bene? La fai. Come sei lì? Come fare l'automobile? Sì. Francesca. Me la fai. Ciao! Come la piccola? Me la sollevi la piccola? No, no, no. Mi piacere! Mi spero di nuovo! Mi sento di nuovo! Grazie! Auguroni eh! Alla prossima eh! Grazie, grazie, ciao! Grazie! Ciao! 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 Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti ragazzi! Ciao! Ciao! Ti ricordi? Questa è lei? Questo è... Il ricombino è qua! Eh no, ci manca! Ah, loro la c'è manca! Però... Giorgio! Giorgio di tonno! Ah, loro due sì! Ah, loro due sì! Giorgio di tonno! Però è Giorgio di tonno! Sì! Hai due! Eh, se non è questo qua di tonno... Oh! Oh! Come la sta? Eh, che bella! Bellissima! Eh, che bella! Benissima! Eh... Sì! Ciao Giorgio di Torno, c'è il stipendio. Adesso sono in portoria, solo perché ci hanno un secondo spettacolo. Un attimo, la testa. Dov'è strasburgo? Dov'è strasburgo? Sai che qualcuno mi ha scritto, ma come fai se sei a Trasburgo e vieni a Milano oggi? Ce l'hai fatta quello, grazie. No, poi cambiamo. Un poeta viaggiatore. Esatto, magari. Un poeta. Ciao ragazzi. Ciao. Compuni di nuovo. Grazie, grazie, grazie. Ti è piaciuto lo spettacolo? Stupendo. Stupendo, stupendo. Aspettiamo la puntata dei topi. Com'è? E' di cattivo. Oh, io sono buono. E' di cattivo. E' di cattivo. E' di cattivo. E' di nero. E' di cattivo. E' di cattivo. Francesca, ti c'è. Matteo. 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 Sì? Grazie. Grazie mille. Ciao ragazzi. Se c'è una prossima sei tornata. Ragazzi sono. Non sono bassi. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. A presto. Se tornate. Guarda che una ragazza si è fatto questo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Ci vediamo alla prossima se tornate. Sì? Assolutamente sì. Ok. Ci vediamo. Firmo, firmo tutto. Sì, giuro. Tutto firmo. Mi iscrivi per mia moglie. Questo no, proprio sotto. Quello no, quello mi sa che è per te. Quello è per te. È per te, l'ha fatto la ragazza. L'ho fatto io. Ah ok, grazie. Ci sono anche i disegni di tutto il resto. C'è una grenguarina, ti vedo. Sì. Metà frolle e metà grenguare. Ci sono anche i disegni di tutto il pasto. Ah ok, grazie. Mi passo. Questo è per tua moglie. Come moglie. E come si chiama? Gigliola. Gigliola. No, no dai. Voi però potete non spingere più, glielo lo posso io, la prego. Ciao. 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 Scusami ma da dietro mi fanno uccidere. Ciao, sei bellissimo lo stesso. Questo è l'ultimo, poi devi andare via. Grazie mille. Sì, adesso è proprio meglio. Ciao. Ho rubato questo. Grazie. Grazie. Ciao. 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 Vi do questa che. Questa è una prima. Ciao. Un abbraccio. Ciao. 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 Grazie, ciao!